Durante il podcast dell'ex lotatore Conan, Rey Mysterio ha svelato un dettaglio importante sul futuro del figlio Dominic. Ecco le sue parole tradotte e adattate in italiano. Dominic si sta per trasferire a Tampa o ad Orlando per iniziare una nuova vita. Desidera sfruttare al massimo la palestra della WWE e sviluppare al meglio le sue capacità. Lavorare con coach come Tyson Kidd gli sarà di grande beneficio, così come il confrontarsi con altri atleti. Non dimentichiamoci che è ancora in quella fase in cui devi imparare molto e io credo che per lui questa decisione sia fondamentale. È come se fosse l'inizio della sua vita da adulto. Stabilirsi in Florida e allenarsi in modo continuativo non potrà che fargli bene. A queste parole Dominic ha risposto come segue. In Florida ci sono il Performance Center di Orlando e la palestra di Tyson Kidd a Tampa e sono luoghi dove non puoi che crescere e migliorare. Ci sono così tante opzioni per chi vuole fare wrestling che è solo l'imbarazzo della scelta. Ad ogni modo probabilmente il mio trasferimento sarà temporaneo e non definitivo, visto che mi spiacerebbe abbandonare del tutto la California. Beh insomma Dominic ha deciso davvero di rimboccarsi le maniche, la sua è una decisione giusta, sta andando nel luogo ideale per avanzare di livello e per lentamente continuare a proporsi e a mettersi in mostra senza restare rinchiuso nella nomea è il figlio di Ray. Quindi bravo, datti da fare, dacci dentro e ti aspettiamo tutti quanto prima a SmackDown.